Buongiorno, dai chiostri di Santa Caterina che vi parlo, io sono Franco Lovisolo della Negro Ricevimenti, siamo un'agenda di catering che in realtà facciamo catering da un mucchio di anni, addirittura da subito dopo la guerra già i miei facevano catering per le aziende e poi ci siamo rimessi dietro questo lavoro che ci ha praticamente coinvolto tutta la famiglia dove oltre io, mia moglie, anche mia figlia, mio figlio, devo dire che si sono innamorati di questo lavoro. Devo dire la verità, è veramente una cosa molto interessante perché il nostro lavoro praticamente è cercare di cogliere il desiderio delle spose e fare di ogni matrimonio un matrimonio che sia in linea con quello che sono i propri desideri. Oggi qua fino al borgo abbiamo presentato un buffet con una bellissima torta nuziale, con i muffin che possono essere dove possiamo fare il candy bar, composizioni di fiori perché alla fine il matrimonio non è solamente nel catering, non è poi solamente fare da mangiare, fare cibo, fare il pranzo, ma è proprio tutto l'insieme della festa. Quindi la cura del dettaglio e quello che poi fa la differenza sono proprio creare a ogni evento un tema che sicuramente si deve collegare alla coppia, la coppia deve trovare sempre o un colore che sia il proprio colore preferito o un tema che può essere i fiori che possono essere ripresi sia nel menu, nella mise en della tavola. Ecco questo fa sì che ogni matrimonio per noi deve essere un matrimonio ognuno deve essere unico. Noi diciamo sempre che il catering rispetto alla normale ristorazione è un servizio fatto su misura, un tailor made costruito intorno alla nostra sposa e costruito intorno anche alla location che si sceglie. Certamente qua in Liguria abbiamo la fortuna sulla riviera di Ponente di avere bellissime spiagge, bellissime location, vista mare e in particolare anche tanti spazi che hanno della storia dietro che riescono a creare veramente un'atmosfera. Personalmente io amo molto fare il matrimonio di sera in quanto oltre la cena poi abbiamo anche modo di fare dei bellissimi dopo cena dove con l'ambiente giusto i nostri ospiti di fargli passare una bellissima serata. Un altro punto molto importante per noi sono le tempistiche. Le tempistiche sono quelle che il matrimonio non deve essere, il matrimonio bello non è quello che dura tanto ma è quello che quando gli ospiti se ne vanno dicono peccato è già finito. Un'altra cosa è l'equilibrio. L'equilibrio a volte si trova con un aperitivo fatto che non duri troppo ma nemmeno troppo poco che lascia i nostri ospiti, il tempo di conoscere anche l'altra famiglia, gli altri amici che non si vedevano da tanto. Quindi questo momento di presentazioni noi pensiamo che l'ottimo sia un paio d'ore, poi ci mancherebbe quando gli ospiti sono in tanti, occorre un po' di tempo in più per servirli per cui a volte si va anche due ore e mezza grazie ai nostri amici fotografi che ci tengono gli sposi impegnati dietro al servizio fotografico. Quindi la prima parte dell'aperitivo un paio d'ore, la parte della tavola negli anni si è cercato di renderla più veloce. Più veloce, fatta bene con pochi piatti. Fatta bene con pochi piatti ma comunque una parte molto importante che coinvolge il cuore della festa direi. Finito la parte della tavola, poi l'attimo e l'attimo della torta. L'attimo della torta ha sempre bisogno di un'ambientazione particolare, noi siamo sempre per il taglio vero della torta, le foto vere con la torta, perché è un momento che sicuramente bisogna cogliere, è il momento più suggestivo dove quando a volte vediamo le lacrime della mamma e degli ospiti, noi siamo contenti. Dopo la torta è la mia parte preferita, la parte del dopocena, l'open bar, il momento in cui gli amici diventano i primi, dove gli amici di infanzia, di scuola si ritrovano e riescono a fare una festa solo per loro ed è l'unico momento nella vita di una persona, o beato chi se ne può permettere tanti, però diciamo che normalmente per una persona è l'unico momento che può organizzare una festa come avrebbe voluto, quindi non bisogna tante volte guardare solamente a fare un matrimonio, cerchiamo di coglierlo come l'unica occasione nella nostra vita in cui ci rimarrà un ricordo e questo sarà importante.